Sono cominciati oggi gli interrogatori di garanzia nei confronti dei 40 indagati finiti nella rete dei carabinieri della compagnia di Paternò con l'operazione sotto scacco. Si tratta di uomini ritenuti al vertice o nel ruolo di affiliati ancora sostenitori esterni al gruppo degli Assinnata, Mantea, Leruzzo e il gruppo di Belpasso legato ai Santa Paola Ercolano di Catania. Oltre un anno e mezzo di indagini per porre fine all'attività del gruppo criminale basata soprattutto sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle truffe all'Inps con i falsi braccianti. Tra i primi interrogatori di oggi effettuati in modalità online figurano quelli di Giuseppe Sinatra e Giuseppe Mobilia difesi dall'avvocato Antonio Giuffrida. I due imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nel pomeriggio di oggi previsto l'interrogatorio di Domenico Assinnata Senior difeso dall'avvocato Carmelo Lopresti. E intanto rispetto ai fatti di cronaca emerge forte ed in netto contrasto la figura di Giuseppe Condorelli, imprenditore dolciario, che al tentativo di estorsione di Daniele Licciardello ha risposto con la denuncia alle forze dell'ordine. In un biglietto con numerosi errori di grammatica c'era scritto mettiti a posto, ti facciamo saltare in aria, cercati un amico. Da qui, come detto, la denuncia di Condorelli alle forze dell'ordine, l'indagine dei carabinieri e il timore degli indagati di essere individuati ed arrestati. Proprio per quest'ultimo motivo, il timore di essere arrestati, comprendendo anche la caratura di Condorelli come imprenditore, la decisione di desistere dall'andare avanti con le minacce e con le richieste estorsive. E il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, sulla sua pagina Facebook ha scritto una sola parola, orgoglio. Orgoglio tutto belpassese per l'imprenditore Giuseppe Condorelli che, denunciando il pizzo e andando contro le minacce perpetuate negli anni, ha contribuito ai 40 arresti, 10 dei quali ai domiciliari, tra Catania, Siracusa, Cosenza e Bologna. Un esempio, quello di Giuseppe Condorelli, che deve servire da monito per altre aziende. Denunciare è l'unica soluzione per vincere. E sull'argomento, il presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo San Bataro e tutte le forze politiche rappresentate nell'assise civica per mezzo dei loro capigruppo, plaudono all'operazione sotto scacco.